Il frattempo che appunto vesso i panni del soprintendente che vi ringrazia innanzitutto per esservi resi disponibili a realizzare questa importante giornata e questo momento importante di rifiuto. Ci tengo a condividere, quindi vi ringrazio e saluto tutti ma non in maniera formale, davvero sentitamente perché questa comunità internazionale di studiosi, di amministratori, cittadini che sono diventati poi tutti amici sono in realtà legati da un'unica passione, cioè quella per il sito di Monte Torretta. Vi chiedo perdono se comincio oggi, questa giornata europea dell'archeologia voluta dall'ente nazionale francese per l'archeologia preventiva, dicendo esattamente che cosa il Pietragalla Project non è. La riflessione che voglio fare con voi parte da che cos'è invece l'archeologia preventiva, qual è lo stato dell'arte, dell'archeologia preventiva nei nostri territori. Non soltanto ci sono una serie di contraddizioni, una prima peculiarità che è forse tutta italiana è quella per cui il workflow dell'archeologia preventiva è dettato in Italia da una circolare che regolamenta una legge ormai abolita. Infatti facciamo tutti riferimento alla circolare 1 del gennaio 2016 che è in attuazione ai famosi articoli 95 e 96 del vecchio codice dei contratti pubblici del 2006, mentre la norma che oggi consente l'applicazione dell'archeologia preventiva è il nuovo codice degli appalti. Ma non è questa la contraddizione più grande che caratterizza questo ambito nei nostri territori. Riflettevamo forse un paio di giorni fa, proprio presentando i risultati conseguiti durante l'esecuzione dei lavori per una complessa infrastruttura pubblica su quello che è l'uso invalso in Italia del termine archeologia preventiva. In realtà in Italia quando si parla di archeologia preventiva si fa riferimento a tutto ciò che alla prevenzione e alla diagnostica archeologica sono sfuggiti. L'archeologia preventiva da noi si sostanzia nella sorveglianza dei cantieri e nello scavo di emergenza. Nel migliore dei casi, nelle indagini indirette sul terreno, qui vedete anche un'immagine di Pietragalla, non che tutto ciò non ci possa garantire scoperte importanti, ma necessariamente questo tipo di indagini restano legate al carattere di emergenza per cui trascurano alcuni degli aspetti che solo una ricerca ben organizzata può prevedere. E questo è uno dei punti su cui credo dobbiamo riflettere noi che ci occupiamo dell'archeologia di questo territorio. Il lieto fine di ogni storia dell'archeologia preventiva in Italia si legge nella riuscita e realizzazione di un'opera pubblica. Il più delle volte si tratta, sapete, di un impianto eolico o grandi infrastrutture come le linee ferroviarie, le infrastrutture stradali, ma ricerche nate in quanto tali per indagare il contesto archeologico sono ben rare. D'altronde questa mancanza di pianificazione è evidente anche nel fatto stesso che ancora pochissime regioni in Italia hanno rispettato quello che prevede il codice dei beni culturali ormai già dal 2004, quindi si siano dotate di un piano paesaggistico regionale. In Basilicata attualmente un gruppo di lavoro interministeriale sta lavorando alla definizione delle aree di interesse archeologico, come vedete sono ancora pochissime, sono solo quelle aree in arancione, e tra queste prima o poi toccherà inserire anche il sito di Monte Torretta di Pietragalla e soprattutto il suo splendido contesto paesaggistico. Rispetto a questo dobbiamo ringraziare proprio il Pietragalla Project, sia per la rinascita di un interesse da parte degli studiosi di tutti noi, ma anche perché questo interesse appunto è stato esteso soprattutto alla comunità locale, agli organi politici, alle istituzioni, che stanno lavorando, come si è detto, non soltanto per la ricerca, ma anche per la valorizzazione e per la gestione del sito. È evidente quindi che cosa, rispetto a quella che è l'archeologia corrente in Italia, invece che cos'è il Pietragalla Project? Innanzitutto ha in sé l'idea di progetto, è un progetto di ricerca, ma se mi permettete anche con qualche merito in più. E lo dimostra il fatto non soltanto che siano coinvolte tutte le componenti, i differenti ambiti della ricerca, i diversi approcci e le applicazioni metodologiche, varietà di dipartimenti universitari e tutte le persone che oggi sono connesse, che in questo momento sono connesse, credo che ne siano una prova. Ma la cosa ancora più importante è che di questa ricerca sono state pensate e in qualche misura programmate tutte le fasi, come abbiamo detto, da quella dell'indagine, la valorizzazione e fruzione del sito, ma ci si è interrogati, è una cosa che manca ai progetti di ricerca in generale, anche sui possibili modelli di gestione del sito e questo è quello che fa di questo progetto veramente qualcosa di importante e di straordinario, la sua carta vincente. Soprattutto se lo confrontiamo con altri progetti, pur importanti e pur significativi nel nostro comprensorio. Vedete qui l'immagine della Torre di Satriano dove per anni si sono condotte le ricerche della scuola di specializzazione in archeologia della Basilicata, le ricerche di cui Agnes è protagonista a Monte Croccia, le ricerche del gruppo che opera a Civita di Tricarico. Per quanto riguarda Serra di Vaglio, sapete tutti che è stato un sito che in forma sperimentale ha attuato una forma di valorizzazione, di fruizione. Non a caso la casa dei Pitoi è stato il primo esempio di ricostruzione dal vero di una struttura del V secolo a.C. e si proponeva proprio questo, di attirare i pubblici, di attirare appunto le comunità e la fortificazione tardo-arcaica del Parco delle Mura è fronteggiata da quest'area con il laghetto, insomma un'area picnic che doveva essere destinata alle famiglie, ma sappiamo che purtroppo tutto questo non è andato in porto, è un modello che non è decollato. Invece il coinvolgimento vero, il coinvolgimento reale della comunità locale ha trasformato il giacimento culturale del sito di Monte Torretta di Pietragalla in una risorsa e questo proprio grazie al progetto che ne è alla base. Guardate la comunità locale appunto che trasforma il sito in un luogo, in un ambiente vivo. Mi avvio alle conclusioni condividendo con voi questa slide, non già per tediarvi con riflessioni teoretiche di una domenica pomeriggio, ma perché volevo condividere con voi alcune suggestioni. Innanzitutto mi ha molto incuriosita la coincidenza delle date. Tutti sapete che sul sito di Monte Torretta le indagini sono iniziate proprio negli anni 50 con Ranaldi che si inerpicava sulle montagne potenchine e quando l'archeologia era dominata dallo storicismo culturale. Mi ha colpito poi la scansione temporale delle applicazioni tecnologiche che vedete sull'asse delle ascisse, a cui quasi per salti evoluzionistici corrispondono degli sviluppi metodologici della nostra disciplina. E qui mi è sembrato di vedere quasi una corrispondenza delle diverse personalità che nei decenni si sono occupate di questo sito in vario modo. Pensate anche solo guardando gli output cartografici al passaggio dai fogli catastali di Dino Adamesteanu che negli anni 60-70 poneva il vincolo nel territorio, alle prime prospezioni geofisiche degli anni 90 e ai primi GIS con cui Marco Di Lieto applicava le analisi dei coni di visibilità a questo territorio. E a proposito della definizione di tutti i professionisti che sono coinvolti in questa operazione nel passaggio che credo ormai sia ben metabolizzato dall'idea di una collaborazione di discipline considerate extra rispetto all'archeologia e passando per una ricerca archeologica computer-based arriviamo ad una comunità che coproduce ricerca integrandone tutti gli aspetti e in questo penso che si possa ben riconoscere il lavoro fatto da Agnes Allen e Vincenzo e tutti gli studiosi e gli specialisti che il Pietragalla Project ha saputo aggregare in questi anni. Ma la coincidenza che ho trovato più soffrendente e a tratti inquietante è che nell'evolversi degli strumenti di lavoro vedete le nanotecnologie che pure ci hanno consentito di continuare a lavorare dalle nostre postazioni in questa condizione di reclusione forzata rischiano però di farci cedere alle lusinghe dell'Internet of Things che è un'illusione secondo me l'illusione di essere sempre connessi, sempre in relazione anche se ciascuno rimane dietro alla sua scrivania e questa pandemia credo che ce lo abbia dimostrato abbastanza bene ma vi invito non appena possibile a fare sì che il nostro lavoro ci riporti alla concretezza e alla magia dei luoghi, dei paesaggi reali al contatto umano e allo scambio appassionato che abbiamo sempre avuto in questa ricerca altrimenti credo che avremmo perso una grande occasione e per non dimenticare mai da dove siamo partiti e dove necessariamente dobbiamo traguardare vi mostro queste ultime immagini dei cumuli di pietre come li definiva Francesco Ranaldi che qui vedete in una fotografia del 1958 all'inizio delle sue indagini qui in realtà si tratta della fortificazione di Serra di Vaglio mi perdonerete se nel mio repertorio familiare manca un'istantanea di Monte Torretta di quegli anni ma da questa foto si coglie il momento della fatica dello spietramento confrontata chiaramente con i ricercatori di oggi altrettanto affaticati dallo sfalcio dell'erba a cui sono condannati ogni anno al loro arrivo sul sito e vi mostro poi questa immagine che ritrae quello che era considerato il pubblico il pubblico finale della ricerca archeologica negli anni 60 abbiamo Adamesteanu nella trincea anche qui siamo a Serra di Vaglio a questo proposito per inciso archeologia stratigrafica cioè in questo siete veramente straordinari e strepitosi perché volendo ridocumentare questo tipo di operazione o meglio quello che dopo questo tipo di operazioni si legge a livello stratigrafico credo che veramente sia un'operazione complessa e difficile torniamo all'immagine vedete Adamesteanu nella trincea che è l'archeologo ufficiale e poi sono seduti in fila il brigadiere, il parroco e il sindaco del paese che sebbene condividano un momento diciamo abbastanza faceto sullo sfondo ci sono gli operai chiaramente si trovano in un luogo in un luogo particolare qual è il sito archeologico e confrontando quelle immagini quindi il parterre dell'archeologia degli anni 60 con quelli che sono i destinatari del Pietragalla Project quindi il pubblico che l'archeologia oggi si deve sforzare di raggiungere vi lascio con questa domanda cioè qual è l'approccio che l'archeologia oggi si deve porre quali domande si deve porre e a cosa deve cercare di andare incontro le domande sono molto concrete e pragmatiche l'archeologia deve essere un processo partecipativo siamo nella fase della cosiddetta archeologia pubblica la costruzione di una conoscenza ed un'identità basata sul coinvolgimento delle comunità e su un'analisi dei bisogni delle singole persone poiché l'archeologia non è solo studio di antichi reperti ma politica, economia e identità sociale grazie per l'attenzione